Non è facile pensare di cambiare le abitudini di tutta una stagione di una vita che è passata come un lampo e che fila dritta verso la stazione di un mondo migliore di un mondo migliore Sai, essere libero costa soltanto qualche impianto Sì, tutto è possibile Perfino credere che possa esistere un mondo migliore